Bella ragazzi, qua in Chiotto, buongiorno sì, ciao a tutti, signori, pagelle, pagelle analisi del giorno dopo di Lecce-Lazio 2-1, gli unici giallorossi che ci riescono a battere, il Lecce di Liverani, sono solo contento per Liverani. Un like ragazzi per chi ieri sera ha notato la maglia di Zagor, vi lascio il video post partita di Lecce-Lazio in alto adesso nelle schede, un video molto approfondito diciamo per essere un post partita quindi mi raccomando recuperatelo, iscrivetevi al canale, vi chiedo questo piacere mi raccomando perché molti guardano i video e non sono iscritti, quindi un bel like al canale e vi ricordo che c'è la possibilità di abbonarsi, trovate il tasto abbonati vicino al tasto iscriviti se volete supportarmi. Allora, signori, Lecce-Lazio 2-1, il crollo, il crollo totale e sancisce secondo me praticamente la fine dei giochi, finché la matematica non ci condanna io ti ferò, ci crederò fino alla fine, però parliamoci chiaro, in questo momento noi non dobbiamo guardare cosa fa la Juve, fatti ieri sera ha perso, ma noi stessi. Noi adesso dobbiamo guardarci più dietro che davanti perché noi in questo momento non siamo in grado neanche di pensare di fare una rimonta, dobbiamo lavorare su noi stessi perché abbiamo perso la fiducia nei nostri mezzi, abbiamo perso la lucidità. La lucidità l'hanno perso alcuni giocatori, non tutti e uno di questi è Patrick. Voglio parlare all'inizio appunto di Patrick del Morso alla Luis Suarez e diciamo che lì è proprio l'emblema di un giocatore che mentalmente quando si va in difficoltà, quando il livello si alza, non è ancora un giocatore pronto. Magari non lo sarà mai, Patrick è un giocatore quest'anno importante, lui è un difensore da difesa 3 perché è tecnicamente bravo, è bravo a impostare, quindi da uno che giochi in una difesa 3 mi aspetto questo. Se poi andiamo a vedere come marca Patrick, Patrick proprio concettualmente non sa marcare in area di rigore e l'azione, il gol preso da Babacar è proprio il simbolo di questa cosa. Patrick gli sta a due metri, guarda solo il pallone e non guarda l'uomo, dimostrazione che non sa marcare. Quindi un difensore che in una difesa 4 non potrebbe mai giocare centralmente, da difesa 3 è un buon difensore. Però ripeto, quando il livello si alza, quando la squadra va in difficoltà, lui non riesce a dare quel qualcosina in più, che danno i grandi giocatori come ha fatto ieri Milinkovic Savic. Lo stesso discorso vale per Rugani nella Juve, un giocatore che se gioca a Juve Chievo e tutta la squadra gioca bene, ti fa anche gol, magari gioca bene. Quando il livello si alza, lui si vede subito che è il più scarso, diciamo, della squadra. E questo è un semplice paragone. Io poi non sono, ieri non ho gioito per niente della sconfitta della Juve perché rosico ancora di più e poi perché, ripeto, il problema adesso siamo noi, non la Juve. Perché la Juve le potrebbe perdere anche tutte, ma tu sei convinto che la Lazio le vince tutte o comunque la vince la maggior parte delle partite da qua a fine stagione? Io non sono convinto. Io, Lazio-Sassuolo, in questo momento, io dico X2, ma non perché ho perso la sfiducia, ma proprio perché ho visto la squadra male. È perché il Sassuolo è una squadra che, per caratteristiche, ci mette sempre in difficoltà, tutti gli anni. L'anno scorso i fatti abbiamo pareggiato, se vi ricordate, giocando malissimo. Il Sassuolo noi giochiamo meglio quando andiamo là, Reggio Emilia, ma in casa nostra facciamo molta fatica e occhio perché il Sassuolo è anche in forma e gioca un buon calcio. Quindi io adesso guardo alla Lazio, non guardo più le altre partite, guardo alla Lazio. Perché a noi ci interessa comunque arrivare secondi perché ce lo meritiamo. Abbiamo dimostrato di aver comunque battuto la Juve due volte, di meritare il secondo posto, quindi occhio. Perché comunque arrivare quarti non cambierebbe nulla, perché in Champions ci arrivi lo stesso. Però da tifoso, sinceramente, mi dispiacerebbe un sacco, ma penso che vi accodate tutti a questo mio discorso. Ma andiamo, ragazzi, alle pagella. Allora, Thomas Tracoscia, 6. Potrei dargli anche qualcosina in più, però comunque quando perdi, anche lui, si merita un voto un po' più basso. 6. Sbaglio un'uscita nel primo tempo, però bravo sul rigore di Mancoso, perché come ho detto, Mancoso lo tira alto. Però Stracoscia ha studiato, lo staff della Lazio ha studiato come tira il rigore di Mancoso. Mancoso aspetta sempre il movimento del portiere, poi lo spiazza con il piattone. Lui ha aspettato fino all'ultimo fermo e ha messo in difficoltà Mancoso, che infatti ha sparato alto. Poi nel secondo tempo ha fatto anche una grande parata su Mayer, mi paro, su Mancoso sempre, non mi ricordo. Grande parata, quindi 6 che ci sta tutto. Il problema sicuramente non è Stracoscia di queste ultime due sconfitte. Poi Patrick voto 4. 4 per il morso, anche, perché comunque è uscito di fuori di testa, ma, ripeto, sul primo gol ha sbagliato tutto. Tutto in generale è una partita sempre in affanno. Ha causato anche il rigore, che però, ripeto, da regolamento c'è, va bene, però sono rigori, ragazzi, che sono la morte del calcio. Ok? Noi abbiamo perso per dei meriti nostri, perché comunque poi il rigore l'ha sbagliato. Manca l'avesse fatto. Noi ieri abbiamo giocato male. Al di là delle occasioni che crei, ma hai giocato male. Ha messo più qualità in campo Lecce ieri sera. Però, ripeto, secondo me è un rigore che non si può mai dare, perché allora metti la regola che le scivolate non si fanno più, perché tu non puoi andare in scivolate con le mani dietro o con le mani così. Non esiste, non esiste. Quindi, comunque, il voto di Patrick è 4. Acerbi 5, anche lui male. Grosse responsabilità sul gol di Lucioni, perché marca male, marca da dietro, invece devi stare tra il pallone e il difensore. Acerbi, ripeto, è imballato in queste partite. Ma ho visto in generale che un po' tanti difensori centrali sono in difficoltà, come De Vrij, sta giocando male, perché è normale che i difensori magari ci mettono un po' di più, anche chi fisicamente è più prestante, più grosso, come può essere Lukaku, come può essere altri giocatori, di solito ci mettono un po' di più a entrare in forma. Quindi Acerbi, in questa partita, in generale, è andato sempre in difficoltà. Però, ci sta un momento di difficoltà, non lo crocifigo, assolutamente. Però il voto è giusto dare 5. 5. Poi, Radu 5 e mezzo, in affanno, sempre in affanno, non ha commesso errori particolari, però falli inutili, troppo irruento, ma in anticipo sempre in ritardo. Infatti, bravo Inzaghi, perché ieri Inzaghi magari non l'ha preparata benissimo la partita, però l'ha letta bene. Perché comunque ha tolto Radu che era in difficoltà, ha messo Luis Felipe al centro, Acerbi a sinistra, infatti Acerbi ha giocato meglio quando era a sinistra che quando era al centro. Perché Acerbi il piedino ce l'ha messo anche dei cross interessanti. Lazzari 6. Buona partita di Lazzari ieri, gli manca sempre la qualità finale per fare il passaggio decisivo, anche per concludere, perché poi nel primo tempo ha avuto un'occasione che, non so se vi ricordate, che l'ha messa in mezzo. Ma lì poteva tirare, tranquillamente, ma Arudici magari avrebbe tirato. E Lazzari gli manca un pochino il senso del gol, gli manca il passaggio finale, però ieri una bella prestazione di quantità, anche comunque un po' di qualità, perché ho visto degli scambi con Milinkovisavici molto interessanti, uno dei più vivi. Ha attaccato tante volte alla profondità, si è inserito tante volte, quindi bravo comunque a Lazzari. Parolo 5.5. Diciamo che per avere 35 anni, santo parolo, perché è uno dei, alla fine, se andiamo a vedere, meno o peggio, però comunque in difficoltà ed è un giocatore che nella Lazio può fare la terza scelta in questo momento. Quindi il prossimo anno anche a centrocampo si deve intervenire, però non ha anche lui particolari colpi. Leiva 5, ma qua 5 va più in zaghi che a Leiva, perché sinceramente Leiva in questo momento non è in condizione di giocare, quindi io non capisco perché sia col Milan l'ha fatto giocare e l'ha tolto dopo 45 minuti. E ci sta perché col Milan eravamo in emergenza totale. Leiva era un giocatore intelligente che ci poteva stare. Ma ieri fai giocare Cataldi, che l'ho visto meglio, o piuttosto fai giocare Parolo, Centrale, poi Leiva lo puoi mettere nel secondo tempo. Ma se già sai che lo devi cambiare dopo 45 minuti, non farlo giocare, perché Leiva non è in condizione di giocare. Infatti ieri ha sofferto molto il centrocampo del legge. Poi, Luiz Alberto 6-, diciamo che è sempre quello che ci prova, però ieri l'ho visto anche lui un po' meno lucido, ha sbagliato anche dei gesti tecnici. Quindi 6-, anche perché da Luiz Alberto mi aspetto sempre di più. Sicuramente uno di quelli ancora più in palla. E lui la lucidità difficilmente la perde, anche nel secondo tempo ha fatto una grande azione, ha scartato l'uomo, ha tirato, grande parata di Gabriel. Però ovviamente anche lui è un pochino in difficoltà, ma è nel complesso la squadra, perché fa fatica. Johnny 5-, ieri male, sotto tono, un passo indietro rispetto alla partita col Milan. Lo capisco, perché lui non è abituato secondo me a giocare ogni tre giorni, perché comunque nella prima parte di stagione ha giocato male. E Johnny io lo voglio vedere il prossimo anno. Quest'anno comunque, diciamo che le qualità tecniche le ha fatte vedere, però gli manca ancora tanto, anche dal punto di vista della personalità, per essere titolare nella Lazio. Io lo voglio vedere il prossimo anno. Il prossimo anno mi deve fare il salto di qualità. Se no, se Johnny è questo, non è pronto per giocare nella Lazio. Va bene come seconda barra terza scelta. Immobile 4-4. E sono anche generoso, malissimo. A parte nel primo tempo, con Caicedo si sono trovati qualche volta, ha fatto una grande azione nel primo tempo, però in generale è stato un tempo disastroso. Si mangia un gol clamoroso, inciampa sul pallone, perde un sacco di tempi di gioco, quindi immobile disastroso ieri. Voto 4 e non aggiungo altro. Caicedo 6. Trova il gol, che è stato regalato, però merito a Caicedo di trovarsi sempre nella posizione giusta, al momento giusto. E non è la prima volta, io mi ricordo anche con la Samp, quel gol con Colle che si addormentò. Quindi Caicedo è un rapace che è sempre pronto, e questo è un grande merito. Nel secondo tempo va in difficoltà, però devo dire che fa un lavoro sporco molto migliore rispetto a quello che fa in mondo. In Zaghi 6-5, diciamo che è un'insufficienza relativa, perché secondo me è proprio la squadra che non è lucida in questo momento. Ci sono stati degli errori individuali. Lui la partita non l'ha preparata benissimo, perché il Lecce ci ha messo sempre in difficoltà. La partita è stata sempre, secondo me, in mano al Lecce. Noi sì, secondo tempo attaccavamo, ma sempre in modo arruffone. Il Lecce quando veniva avanti eravamo sempre in difficoltà, perdevamo sempre i duelli. Però lui comunque ha avuto il merito di leggerla bene, la partita, di fare i cambi giusti. Ha sbagliato a far giocare Leiva dall'inizio, però non do, ripeto, particolari colpi all'allenatore in quest'ultimo periodo. Poi Milinkovic 6-5, ha cambiato la partita, senza ombra di dubbi, è entrato bene. E un plauso a lui, perché non era facile in quel momento, ha avuto grandi occasioni per fare gol. Santo Gabriel che l'ha parata. A Decagni 6, si mangia un gol, perché quello lì è un gol mangiato, però entra da vivacità, quindi bravo Bobby. Lukaku 6, anche lui un po' ruffone, ha sbagliato dei gesti tecnici banali, però ci ha provato, ha puntato l'uomo. Quindi Lukaku è un'arma importante, sempre da subentrato. Cataldi 6-6, entra, ha fatto un tiro, diciamo meglio di Lucas Leiva, però anche lui non ha brillato più di... non è al meglio, non è al meglio. Quindi ragazzi, le pagelle sono queste, fatemi le vostre pagelle se volete nei commenti, commentate, like al video, iscrivetevi al canale, e seguitemi su Instagram, primo link in descrizione, bella, e speriamo alle prossime pagelle di festeggiare una vittoria, ma col Sassuolo io sono molto preoccupato. Ciao!